E non è stata effettuata nessuna autopsia? No, il medico legale non l'ha ritenuta necessaria. Ha constatato la sua morte per arresto cardiaco dovuta a soffocamento. E perché tutta questa fretta? Come da prassi, in queste occasioni viene affidata alla polizia mortuaria. La nostra responsabilità termina qui. Dove è stata portata la salma? La smetta, dottoressa Cantalupo. Sa bene che il fascicolo su De Silva è di nostra competenza. E non siamo tenuti ad informarla. È ovvio che si è trattato di una tragica fatalità. Chissà perché quando si parla di De Silva stento a credere al fato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.